Musica Buonasera, bentrovati con l'appuntamento della nostra informazione. C'è la pagina della cronaca in apertura per gli scontri avvenuti a Roma il 15 ottobre scorso. Sono stati arrestati degli ultra nella capitale e anche a Terramo. Vediamo. Sono stati tutti identificati e messi ai domiciliari gli autori dell'attacco al blindato dei carabinieri in piazza San Giovanni a Roma, una delle azioni più clamorose degli scontri del 15 ottobre scorso. L'azione fu messa a segno da ragazzi di età compresa tra i 20 e i 37 anni. Si tratta di Giacomo Spinelli, 20 anni di Roma, Davide Rosci, 30 anni di Terramo, Marco Moscardelli, 33 di Giulia Nova, Mauro Gentile, 37 di Terramo, Mirco Tomasetti, 30 anni svizzero di Baden, Massimiliano Zossolo, 28 anni di Roma e Cristian Quattraccioni, 33 anni di Terramo. Il reato contestato è resistenza aggravata. I primi sei in particolare rispondono dell'assalto al furgone dei carabinieri, bloccato e dato alle fiamme, e dell'aggressione al conducente colpito al volto con un bastone costretto a darsi alla fuga. Quattraccioni avrebbe preso parte invece all'assalto a un blindato della polizia, sempre in piazza San Giovanni, attraverso il lancio di sassi. I ragazzi sono stati immortalati da centinaia di riprese video e fotografiche, tantissime delle quali postate su internet da privati cittadini e da molti degli stessi partecipanti agli scontri. Come spiegato dal questore di Terramo, Amalia Di Ruocco, l'attenzione sul nucleo terramano, già sotto monitoraggio perché conosciuto per numerosi altri episodi di violenze e scontri in città e negli stadi, era stata rivolta già dalla serata del 15 ottobre, successivamente l'analisi dei video e delle fotografie aveva portato all'individuazione dei soggetti locali con informative rimesse al pull antiterrorismo. Tra l'altro, sui muri di Roma, il gruppo terramano aveva anche firmato la scorribanda con la scritta Antifa Teramo dal nome del gruppo politico Azione Antifascista Teramo. Nel corso delle perquisizioni in casa degli arrestati, gli investigatori hanno rinvenuto allo stesso abbigliamento indossato il giorno degli scontri, oltre a un macete, un tirapugno e alcuni coltelli, tutto materiale posto sotto sequestro. Secondo il GIP, il gruppo autore del Blitz ha partecipato alla manifestazione come pretesto ed occasione per dare sfogo ai propri sentimenti di ostilità e di eversione verso le forze di polizia. Economia alla Camera di Commercio di Chieti premia 96 imprenditori e dipendenti con attività lavorativa ininterrotta dai 25 anni in su. Premio speciale al top manager Vito Gamberale e alla memoria Dino Di Vincenzo. Il nostro servizio. La Camera di Commercio di Chieti rinnova il tradizionale appuntamento con il premio fedeltà al lavoro e al progresso economico. In 96 tre imprenditori e dipendenti hanno ricevuto il riconoscimento per attività ininterrotta dai 25 anni in su, con qualcuno che ha festeggiato anche il secolo di attività. La cerimonia si è svolta nel padiglione inaugurato da Dino Di Vincenzo, presidente della Camera di Commercio per dieci anni dal 1999 al 2009. A lui un premio speciale alla memoria. E un premio speciale è stato conferito anche all'ingegner Vito Gamberale, manager noto di altissimo livello, nativo di Castelguidone, con formazione e crescita ad Agnone, che ha portato l'industria italiana delle telecomunicazioni tra le prime al mondo e che oggi è impegnato in attività di investimenti nel settore delle infrastrutture. Lo ricevo con piacere, devo dire con una componente di commozione anche, proprio perché a questa terra è legata non solo la mia nascita, ma una componente importante della mia famiglia, di mia madre, quindi tutti gli avi di mia madre. ed è una regione, nell'ambito della regione, la provincia di Chieti, che esprime una particolare laboriosità, una particolare creatività, che hanno sempre dimostrato di sapere conciliare grande impegno del lavoro, forte tenacia, capacità di riuscire, di imporsi, ma conservare anche una grande semplicità, che è sempre un binomio importante, sapersi rendere utile e sapere e conservare la semplicità, perché è il modo per rimanere legati alle proprie origini. Nel corso del suo discorso, il presidente della Camera di Commercio di Chieti, Silvio Di Lorenzo, ha detto che viviamo in un momento difficile, che però ci deve spingere a cambiare, ad essere innovativi non solo nei processi produttivi o distributivi, ma anche nelle relazioni. La qualità delle relazioni, il buon vicinato delle piccole imprese, rappresentano l'elemento distintivo dei buoni territori, quelli attrattivi, quelli dove la qualità della vita è migliore. Allora ecco il senso dell'iniziativa di oggi. Perché queste iniziative bisogna farle in questi momenti, perché altrimenti nei momenti belli è tutto facile. Nei momenti difficili invece è giusto che vengano premiate alcune persone, alcune aziende, alcune categorie, per dare anche sprone un po' agli altri, per dire insomma che nel momento in cui la crisi morde qualcosa di buono e di nuovo si può fare e comunque la perseveranza premia sempre. Sciopero regionale della Confederazione Cobas a Pescara oggi contro la riforma del trasporto pubblico in Abruzzo. La Confederazione Cobas a Trasporti Abruzzo ha indetto uno sciopero per far presente all'opinione pubblica quali siano i problemi più evidenti che impediscono di garantire il miglior servizio di trasporto pubblico, locale ed interregionale. Ascoltiamo Carlo Norcia, che è un conducente di linea dell'ARPA. Per lui è importante fare chiarezza sul ruolo del servizio pubblico. Le liberalizzazioni magari aiutano i costi, quelli che sono magari il futuro, però attualmente abbiamo bisogno di un buon presente, quel presente che garantisce a tutti, a noi che lavoriamo nel settore, la sopravvivenza, sia salariale che lavorativa. E al cittadino la sicurezza di trovare un mezzo, che sia gomma o che sia ferro, che lo riporti a casa oppure lo accompagni a scuola oppure lo accompagni sul posto di lavoro. Ettore Dincecco rappresenta la Confederazione Cobas Abruzzo e ci spiega le ragioni di questo sciopero. Le motivazioni dello sciopero sono il primo è la situazione di stallo nella questione dell'azienda unica regionale, del trasporto regionale, che è un problema molto grosso. I cittadini dovrebbero poter non solo sapere, ma anche poter avere dei momenti di partecipazione, non solo istituzionale. Il secondo motivo è la protesta contro Trenitalia, perché Trenitalia ha praticamente tagliato fuori l'Abruzzo, e non solo l'Abruzzo, da una mobilità veloce, sulla costiera adriatica, e ancora peggio fa nella tratta Avezzano-Pescara, Pescara-Avezzano-Roma, e soprattutto denunciamo che in questo piano regionale dei trasporti la stragrande maggioranza dell'investimento è dedicata alla costruzione di strade. Questo secondo noi non è un piano regionale dei trasporti, è un piano regionale di cementificazione. Il gruppo regionale del Partito Democratico ha visitato oggi il Sampio di Vasto. Il capogruppo d'Alessandro ha dichiarato il nuovo ospedale è una menzogna. Sentiamo. Camillo d'Alessandro continua il tour negli ospedali della provincia di Chieti da parte del PD per verificare quella che è la situazione nei nosocomi. L'obiettivo è di raccogliere informazioni, parlare con gli operatori, parlare dove la sanità si fa, perché dove la sanità si fa si scoprono tante verità, a differenza dei vari comunicati che pure la direzione generale ogni giorno sforna circa la funzionalità e l'efficienza dei presidi ospedalieri. Vasto è territorio di confine, su Vasto la sanità dovrebbe puntare proprio per fare mobilità attiva, per attrarre non solo pazienti dal Molise, ma proprio dal centro-sud Italia ed è una scelta strategica che serve a invertire la rotta della straordinaria mobilità passiva che l'Abruzzo paga ogni anno perché i cittadini vanno a curarsi altrove, anche da questo territorio. Crediamo che degli oltre 40 milioni di euro che erano a disposizione per la provincia di Chieti o meglio per gli ospedali di Lanciano, Ortona e Vasto ne restano soltanto 15 milioni, quindi questo significa che l'ospedale di Vasto non sarà più realizzato. Sul nuovo ospedale la grande menzogna di Chiodi, di Venturoni è sotto gli occhi di tutti. C'erano fondi disponibili per mettere a posto intanto gli ospedali, per acquisire le tecnologie e le strumentazioni necessarie. Hanno detto che avrebbero fatto il nuovo ospedale, dunque quei soldi li abbiamo persi, il nuovo ospedale non si è fatto. Vincenzo Angelini si è ricoverato presso l'ospedale di Lanciano. Lo si apprende da fonti giudiziarie a Chieti, dove oggi si sarebbe dovuta tenere la prima udienza per l'inizio dell'istruttoria dibattimentale nel processo per bancarotta del gruppo Villapini, per il quale Angelini è imputato. L'ex proprietario delle cliniche private è stato ricoverato nel reparto di urologia e secondo il referto che è stato inviato in tribunale non si escluderebbero sviluppi chirurgici. L'udienza è stata rinviata al prossimo 11 maggio. Un uomo di 80 anni di penna d'uomo è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale a Casoli lungo la Statale 84. Per motivi non ancora chiari, l'anziano ha perso il controllo della sua utilitaria che ha sbandato sulla sinistra mentre un camion si accingeva a sorpassarla. Il mezzo pesante ha quindi investito l'auto ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre l'ottantenne dall'abitacolo. L'uomo è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Chieti dove è stato trasportato in eleambulanza. Due persone che viaggiavano con lui sono rimaste lievemente ferite e sono state trasferite negli ospedali di Atessa e di Lanciano. A Pescara il commissario dei lavori per il dragaggio del porto si appella ai parlamentari abruzzesi. Il commissario per il dragaggio Guerrino Testa ha convocato un incontro per affrontare con decisione il problema del mancato dragaggio appunto del porto di Pescara. Ormai la situazione è fuori controllo. Nessuna delle autorità, quelle statali, competenti, sta intervenendo. Il commissario si rivolge a regione parlamentare affinché intervengano con urgenza. Perché ho convocato in primis i consigli regionali e i parlamentari? Perché la regione cosa può fare? Sicuramente fare una pressione, una sana pressione nei confronti del governo affinché in tempi molto rapidi intervenga nella risoluzione definitiva della questione del porto di Pescara. Cosa può fare il Parlamento? Prenda coscienza e conoscenza della situazione attuale ma nel giro di pochissimi giorni dia la risoluzione di questa problematica. Se nel giro di 15 giorni dal momento in cui verrà depositata nel Parlamento italiano questa interpellanza non ci saranno risposte esaustive chiare e nette il commissario di governo il sottoscritto Guerino Testa rassegnerà di sicuro e senza indugio le proprie dimissioni. Il presidente della regione Gianni Chiodi dal canto suo ha voluto evidenziare come in questa assurda vicenda la politica almeno quella che a lui fa riferimento non ha colpe. Qui non è un problema di volontà politica. Primo problema errori progettuali iniziali. Il porto è stato costruito male costi di manutenzione altissimi comportavano quella scelta tant'è vero che la manutenzione non si è fatta. Per me era inevitabile perché un porto di quel genere con quei problemi la diga forane sarebbe stato un pozzo senza fondi per la manutenzione. Secondo problema esiste o meno l'inguinamento? L'art dice una cosa che c'entra la politica. Un privato indicato dalla procura dice un'altra cosa che c'entra la politica. L'ISPRA dice una cosa che non capiamo che dice. L'Istituto Sapere della Sanità dice ma forse ci sta il DDT. noi vorremmo sapere che ci sta. Ce lo devono dire i tecnici assumendosene le responsabilità. La Regione pensava distanziare 2 milioni e mezzo di euro pur dovendolo fare lo Stato per fare abbiamo visto che questo non è servito a niente anzi dobbiamo pagarci i danni e aveva anche previsto 19 milioni di euro nell'ambito dell'intesa quadro che si va della modifica dell'intesa quadro da fornire e da sottoscrivere con il Ministero per intervenire sui problemi strutturali. adesso pare che solamente per dragare ci vogliono tra i 40 e i 50 milioni di euro. Allora c'è qualcosa che in questa vicenda non quadra. E il Presidente dunque chiede una commissione d'inchiesta che possa far luce su questa vicenda definibile quanto meno strana. Giornata della legalità oggi a Ortona con gli studenti e le forze dell'ordine vediamo. Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice all'evento conclusivo del progetto educazione alla legalità promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Ortona. Gli alunni delle scuole del territorio hanno partecipato con progetti ed elaborati esposti in una mostra all'aperto sulla passeggiata orientale. Alla manifestazione hanno preso parte tutte le forze dell'ordine e il prefetto di Chieti Fulvio De Marinis. Devo dire che vedo un grande entusiasmo e una grande partecipazione. Magari molte volte i bambini per loro potrebbero essere termini incomprensibili però vedo che c'è veramente una forte partecipazione lo vedo anche dai disegnini che hanno fatto veramente molto interessante il tutto. Diversi temi affrontati nel corso dei quattro anni del progetto dal bullismo alla tutela ambientale dai pericoli dei social network alla legalità nello sport l'assessore Leo Castiglione. Non abbiamo voluto creare questo progetto quattro anni fa con l'intento di organizzare un evento una manifestazione no non era questo il nostro obiettivo il nostro obiettivo era quello di farne una missione una filosofia di vita dove insegnare le regole ai ragazzi sin dalla più tenera età e per cercare di far capire loro di stare sempre dalla parte della legalità. E sin da piccoli si impara anche a navigare su internet dove si nascondono mille insidie. Abbiamo fatto il progetto educazione postale stradale. E di che cosa avete parlato in questo progetto? di come si naviga su internet e che si deve stare attenti su Facebook. Grande successo hanno riscosso i mezzi delle forze dell'ordine esposti negli stand e la simulazione di un recupero in acqua da parte dei sommozzatori della polizia. Il comandante interregionale reparto volo Abruzzo Marche Molise Antonio Molinaro. Oggi stanno facendo addestramento in realtà non è solo un'esibizione nel senso che noi i colleghi della Croce Rossa in particolare i sommozzatori noi abbiamo una collaborazione molto stretta che si concretizza nel periodo estivo nel senso che noi avendo tre regioni come competenza Abruzzo, Marche e Molise abbiamo anche tutto in Litorania la Litorania pertanto se ci sono soccorsi da fare recupero al mare o qualsiasi altra evenienza che possa succedere unitamente ai colleghi sommozzatori della Croce Rossa interveniamo e come avete visto oggi oltre a lanciarli li recuperiamo e insieme a loro recuperiamo anche purtroppo molte volte i malcapitati. Gli è piaciuta l'esibito dei sommozzatori della politica La pagina del calcio la Virtus è pronta alla sfida interna con il Pergocrema dopo fronterà le ultime due trasferte consecutive della stagione mancherà Paghera con Vastola che prenderà il suo posto a centrocampo La Virtus è pronta al ritorno casalingo in una marcia a tappe forzate che vedrà poi due trasferte consecutive dall'estremo nord dal profondo sud dello stivale dal mercoledì della liberazione alla domenica successiva in una manciata di giorni che diranno tantissimo sul futuro rossonero Prima delle trasferte di Portogruaro e Siracusa si pensa però al Pergocrema con la società che ancora una volta ha ridotto i prezzi e promosso il massimo afflusso dei tifosi per una spinta decisiva a Pavoletti e compagni ormai prossimi alla quota playoff in un finale di stagione che potrebbe riservare sorprese più non posso l'obiettivo chiaramente sarà quello di arrivare agli spareggi in posizione favorevole magari in una seconda piazza che garantirebbe di passare il turno anche con due pareggi Pergocrema prossimo avversario si diceva già sconfitto all'andata e penalizzato ultimamente di tre punti squadra comunque difficile da affrontare con un centrocampo robusto e dalle pericolose ripartenze Gautieri deve risolvere solo il posto vacante di Paghera facile che al suo posto giochi vastola per una zona nevralgica più robusta per il resto non dovrebbero esserci ulteriori novità rispetto all'undici impiegato negli scorsi turni la squadra è caricata a mille e la città sogna ad occhi aperti la società è pronta ad investire programmare con forza e realizzare anche un moderno stadio incontrato a Santorofrio a Lanciano insomma è cambiata aria ed è arrivata l'ora della svolta prima però c'è il Pergocrema dal calcio al podismo terzo memorial dedicato a Ivana Lannuti studentessa deceduta con il terremoto dell'Aquila nel 2009 la maratonina di 8 chilometri si disputerà il 25 aprile a Montemarconi di Atessa un appuntamento dedicato a chi ama macinare diciamo così chilometri e anche scorgere paesaggi belli stupendi delle nostre contrade e la puristica appunto delle contrade 35esimo appuntamento con la maratonina terzo trofeo Ivana Lannuti con uno degli organizzatori porta la firma della Proloco questo evento il signor Angelo Lannuti per ribadire che cosa? Allora ribadiamo innanzitutto che quest'anno la gara è tornata nella sua data naturale il 25 aprile perché negli ultimi anni si è dovuta spostare per via di concomitanze per via di del fatto che l'anno scorso era praticamente Pasqua e quindi non si poteva fare e ribadiamo inoltre che appunto la manifestazione costa di gare non competitive libere e aperte a tutti e di gare di una gara competitiva che è la maratonina di 8 chilometri che tra l'altro è un bellissimo percorso perché c'è un tratto di scollinamento da cui è possibile ammirare la montagna il mare e tutta la bellezza della Val di Sangro la maratonina è intitolata alla memoria di Ivana Lannuti che è sempre mia figlia anche se è stata una delle vittime del terremoto dell'Aquila io ringrazio ancora la Prologo che ha avuto questa sensibilità e tutti quelli che verranno a partecipare alla gara la gara appunto di 8 chilometri che è diciamo il clou della manifestazione e che quest'anno è stata reinserita nel circuito di Corri Labruzzo quindi si prevede una nutrita presenza di atleti in merito dobbiamo precisare inoltre che per motivi strettamente organizzativi quest'anno adesso il programma che era stato annunciato ma sono motivi sopraggiunti diciamo all'ultima ora tutta la manifestazione slitta di mezz'ora per cui il ritrovo è alle 15.30 e poi l'inizio delle gare è a seguire alle 16.30 e alle 17.30 ci sarà la gara la maratonina e quindi noi aspettiamo numerosi tutti quelli che vorranno partecipare per trascorrere una giornata all'aria aperta al sole correre divertirsi chi non vuole correre può camminare può fare ugualmente partecipare alla manifestazione che prevede comunque premi per i primi arrivati e premi per tutti e questa sera un muso duro seguirà in diretta l'anticipo di serie B Padova Pescara con i commenti da studio Sergio Mancini e Gianfranco Semproni in chiusura vi ricordo che il Tg Max e i servizi del Tg Max sono sul sito tgmax.it è tutto per questa edizione grazie per l'attenzione arrivederci a presto a presto a presto a presto a presto a presto a presto